Salve a tutti ragazzi sono End 1001, oggi ci troviamo su Warface Sto facendo l'ingegnere, saliamo assieme a questo cretino qua, guardate Tutti qua in massa come sardine per salire sopra un tetto Ok l'ho ucciso, prima uccisione, no no non è stato First Blood, però prima uccisione dei miei attacchi Sì guardate che pro che sono, ecco finalmente C'è qualcuno, c'è qualcuno? La partita è iniziata bene, ma più o meno sto facendo io le uccisioni, soltanto io, per il resto Aspettate lancio una granata lì dentro Nooo, io speravo con la granata lì dentro uccidevo qualcuno, ma invece sono salvati per pochissimo Aspetta che ti riparo l'armatura, aspetta c'è oggetto, aspetta caspita Ecco ti ho riparato l'armatura Speriamo di non essere uccisi da cerchini Ok sono riuscito a uccidere qua un cecchino che stava camperando Ci mancava poco la tenda Ok mi sono avvicinato molto nello spawn nemico No, no 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 no, che fortuna che ha Ma che armature hanno poi, giubbotti di salvataggio quelli per il mare No Ok ucciso, ucciso Per fortuna, meno male che mi sono abbassato, un video mi faceva colpi in testa Perché è sempre così con me Ho colpi in testa o mi mancano Nella maggior parte dei casi colpi in testa Provo a rilanciare la granata lì dentro Ok va bene sono sempre sfigato, evito di lanciare la granata a caso Lascio qui una Claymore E ho fatto dieci punti così, senza senso No, no quanti sono No, la pistola con la revolver Ma che cosa va bene, niente, lasciamo stare Poi due mila ore per ricaricare Mi devo prendere qualcosa per ricaricare più velocemente Perché questo personaggino è lentissimo Ok ucciso Mi abbasso Rishotter Ok ucciso E tutti quanti camperano, che schifo che fanno No, 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 no Ma chi è che mi sparava, mi sembravi un muro No ma seriamente tutti quanti qua Ah no per futuro sono saliti là, era un momento di lag piccolissimo Lasciamo un'altra Claymore Qui, ecco perfetto Vediamo se c'è qualcuno lì Io credo di sì Aspettate ragazzi Mi avvicino Anzi no, rimango qua sopra Oh, per fortuna l'ho ucciso Ok, adesso cambiamo posizione Perché ci manca poco che moriamo Sistemiamoci qua l'armatura Adesso vediamo di uccidere alle spalle Oh, qualcuno è andato nella mia Claymore Idioti Ok, ho sistemato l'armatura di un mio alleato Stiamo attenti, questo qua è territorio nemico E sarebbe tutto territorio ostile Però vabbè, facciamo finta che qui è ancora più ostile Vedete, maledizione Spano sempre in testa Io nel corpo Proprio mi viene complicatissimo Che cos'erano? Dove sono spuntati quegli uccelli? Non lo so Andiamo avanti Oh, c'è qualcuno C'è qualcuno? Sì c'è qualcuno Guardate striscia come un verme Oh, l'ho ucciso Per fortuna Non viene qua Due milioni di colpi Vai tu in avanti In ava scoperta No, 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 no Scappa, scappa Dai, prendi quella Claymore Dopo, quando vende sono morto Sta andando bene la partita Aspettate, guardate L'ho preso con la granata Che è successo? Il teletrasporto Oh, non lo so cos'è successo Sì, sta andando un po' a scatti Adesso mi caccia per il lag No, non voglio che succeda questo Speriamo che non succede Ehi, presso almeno la Claymore Ogni volta che li metto Sono punti strategici 12.8 Sta andando bene C'è qualcuno là sopra L'ho visto Io passo di qua Così non sanno dove sono E muori Sì Siamo andati direttamente nello spawn Stiamo facendo spawn kill Così Per dare fastidio al nemico Secondo me stanno iniziando a sbraitare In una maniera Pazzesca No, no Maledizione Io mi fidavo dei miei alleati E' meglio non fidarsi Sono proprio incapaci Oh, c'è qualcuno di qua C'è qualcuno Aspettate Vabbè uno è morto per la Claymore Ok, scappiamo Passiamo di qua No, niente Non ci sono riuscito a colpirlo Però sanno dove sono Stiamo attenti Ho visto qualcuno di qua Muori Sì Ci sono riuscito Granata Boom Sì La mia tecnica kamikaze Funziona ancora Soltano Sì, va bene Non ci sono riuscito Scappa, scappa, scappa Che fortuna Ripariamoci qua Sì Che siamo Un robot Oh, vabbè Ci mettiamo l'armatura Sono qua Aspettate No Ma smettila di ricaricare Dov'è? Dov'è? Non lo vedo Mori Che è successo? Meglio ricaricare adesso Ricarica adesso Adesso Ti ho detto No Maledizione Che schifo Il mio fucile È lentissimo Ricaricare Un minuto Finisce la partita Ma sta andando benissimo Quindi Vabbè Niente È maledizione Sti cecchini Che sta mania Di colpirmi in testa Lasciamo qui La claymore Così sicuramente Passeranno sopra Ho sentito Un cannone A posto di un fucile A pompa Questi qua Mamma mia Vabbè Perché forse Stiamo andando troppo Nella base avversaria Ma non me ne frega niente Noi continuiamo Dare qualcuno Sì ho visto qualcuno Aspettate Provo ad aggirarli Aspettate Non c'è nessuno Mi metto qui No È finito il tempo Potevo ammazzarne 2000 16-13 Mi accontento Dai buono Non è che sono potentissimo Ma mi accontento Lo stesso Perfetto Alla fine La partita è andata bene Spero che il video Vi sia piaciuto Lasciate un mi piace Iscrivetevi Attivando la campanella Perché io sono sempre a buio Non lo so E ci vediamo al prossimo video Ciao ciao Ciao